Lisbeth Findevogel, benvenuta qui a Montichiari nella tua nuova squadra, sei pronta per questa nuova avventura in Serie 1? Sì, sono arrivata, sono pronta, sono entusiasta, sicuramente ho da lavorare tanto perché diciamo che sono un pochino indietro rispetto alle compagnie nella preparazione, però sono pronta a iniziare a lavorare, diciamo così. Tu hai giocato per tanti anni in Serie 1, in Serie 2, hai anche lo scudetto cucito sul petto, ho vinto l'anno scorso a Piacenza con la Coppa Italia e puoi portare naturalmente tante esperienze a questa squadra. Sì, questo sarà il mio diecimo anno in Italia, sicuramente ho girato, quindi mi adatto facilmente e penso che per quello mi posso anche inserire abbastanza in fretta in questa squadra. Niente, è una nuova esperienza e anche questa, il diecimo anno deve essere un anno bello, quindi lavoriamo per quello. Diciamo che sono più un giocatore fisico che tecnico, anche se sono più, io dico, sono un pochino più vecchia, le altre dicono perché sono buone, dicono più esperte. Mi piace comunque lavorare molto sulla tecnica perché ne ho bisogno, quindi sono più fisica, sicuramente la mia esperienza è un po' gestire i momenti difficili, che rimango abbastanza tranquilla e niente, sono sempre abbastanza entusiasta, mi piace allenare ogni giorno, sia dopo una vittoria o dopo una sconfitta, sono abbastanza regolare, diciamo così, nordica un pochino. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi.